È un impasto perfetto quello che unisce due ingredienti unici, artigianato e cultura, per la prima edizione del progetto Il Risveglio delle Mani, presentato questa mattina a Palazzo di Città. L'iniziativa è stata promossa e organizzata dalla CLAI di Salerno con il contributo della Camera di Commercio e si svolgerà il 24 e 25 marzo prossimi a Villa Carrara. Il progetto è stato ideato dall'attrice e regista Brunella Caputo e nasce con la precisa intenzione di proporre in chiave artistica l'artigianato come espressione naturale dell'arte umana. L'artigianato è fare con le mani e la cultura è fare, quindi tra cultura e artigianato fare e fare con le mani mi sembrava un binomio perfetto per creare questa nuova avventura. E quindi quest'anno abbiamo focalizzato l'attenzione sull'arte suprema, secondo me, che si fa con le mani, che è l'arte del pane. E quindi abbiamo pensato di mettere intorno a questa arte la parola con una presentazione di un libro. Avemo ospite Fulvio Marino, che è uno dei panificatori più noti in Italia, è un voltorai e anche però discendente di una famiglia di Mugnai, famosissima, i Mugnai Marino, che presenterà il suo ultimo libro, presentato da Sabrina Prisco, questo il venerdì. E poi abbiamo pensato di far vedere l'impasto del pane e abbiamo anche avuto l'idea di mettere insieme, di fare rete con un progetto sociale, che è il Forno Sociale di Comunità di Vincenzo Bardascino. Il Forno di Vincenzo è una realtà bellissima che si trova deboli. Lui è un ragazzo con una disabilità e ha messo insieme questo progetto straordinario, quindi abbiamo fatto rete con lui. E ci dimostrerà l'arte di mettere in forma il pane. E poi anche la parola, con una performance teatrale della Compagnia del Giullare, e poi la fotografia, che mi piace sempre inserire, con una mostra fotografica dedicata all'arte del pane e ad altre arti manuali di Pio Peruzzini e Cristina Santonicola. Come ha spiegato Brunella Caputo, l'iniziativa presentata questa mattina parte dalle mani per battezzare la prima tappa e risvegliare l'arte di un mestiere antico e ricco di fascino raccontato attraverso le sue origini, le sue storie e le sue leggende, che, come tutto l'artigianato, rischia di morire, come ha evidenziato il presidente della Clai Matteo Caputo. Noi, come associazione artigiani, dobbiamo per forza spingere l'artigianato, perché, visto la contingenza nazionale, oggi in Italia abbiamo bisogno solo e discursivamente di artigianato. Quindi noi abbiamo delle nostre maestranze, che ormai stanno alla fine, perché hanno l'età pensionabile, eccetera, eccetera. Quindi non c'è il riciclo di questa nuova gioventù. Noi, come associazione, stiamo cercando di formare, fare dei corsi fondamentali per l'artigianato, quindi indesi come orfi, falegnami, ceramisti, carrozzieri, elettraudi, perché oggigiorno, se non ci dà formazione su questo, anche l'industria avrà seri problemi. Quindi noi abbiamo iniziato con questo progetto, con l'aiuto di Brunella Caputo, di unire artigianato, cultura, letteratura, perché è una forma, diciamo, incentivante per chi vuole approcciarsi all'artigianato.